A Scandicci il ristorante pizzeria Il Crostino aspetta voi e i vostri amici per serate all'insegna della buona tavola in ambiente suggestivo e accogliente. Antipasti primi e secondi di terra e di mare, deliziosi gelati e dolci della casa. Speciale accoglienza per i bambini con menù dedicati e tante sorprese. Inoltre come sempre le fabolose pizze cotte a legna. Vi aspettiamo al Crostino, via Vivaldi 45 a Scandicci. Grazie